Il 28 giugno a Tortoreto il lungomare diventa un allegro paese dei balocchi con in scena la notte rosa dei bambini. Come nasce questa iniziativa? Nasce insieme all'associazione Bagnator di Tortoreto che si è costituita quest'anno con la volontà dei giovani nuovi che si vogliono proporre un territorio che è prettamente residenziale e turistico con delle iniziative nuove, delle novità e questa è già una delle prime novità e abbiamo trovato in questo evento quell'armonia che ci ha uniti, ci ha fatto dare forza all'associazione, a noi stessi a credere in qualcosa. Questa notte rosa dei bambini è l'inizio di una bellissima storia che può nascere oggi a Tortoreto. Importante per la realizzazione di questa notte rosa dedicata ai bambini è anche la partecipazione attiva della Proloco. Questo evento si svilupperà il 28 giugno dalle ore 18, dalle 18 in poi, evento totalmente dedicato ai bambini e alle famiglie che sono l'humus di Tortoreto con la partecipazione di giocoglieri, il circo a Tachimiri e si svilupperà per tutto il lungomare con tutti gli stabilimenti protagonisti dove in ogni stabilimento avverrà animazione interna sempre e totalmente per i bimbi. Un evento unico nel suo genere è questo che si sposa con la bandiera verde. Quest'anno Tortoreto può annoverare anche la bandiera verde pediatrica e quindi di conseguenza questo evento è proprio a culmine della celebrazione della bandiera verde che è stata consegnata a Tortoreto da questo equip di più di 100 pediatri per i servizi e per un Tortoreto come una delle migliori spiagge a misura di bambino. Quindi invitiamo tutti i bambini e tutte le famiglie della zona a partecipare. Alla notte rosa dei bimbi!